Sì Il canale non te lo dico, ahah Stronza oggi Ok, audio, video, tastiera, mouse Inverti il mouse, no Pronto, pronti, pronti Iniziamo, avvio The Lighthouse Gioca questo capitolo, no, guarda Cosa voglio fare, ho cliccato qua, che cazzo devo fare Nuovo livello, nuovo livello Nuovo livello Tanto quello gioca a Skyrim Ecco, metti l'ultima piece di Skyrim Quella che non ti fa aumentare la forgia tu Poi non li parliamo No Eh, sennò la dedrica non c'è Ah, ecco Non ci arriva la dedrica Eh, beh, intanto, proviamoci Tu, c'è, il gioco inizia come italiano E sotto tutti i suoi in inglese Ok, questa qua è una minchada, secondo me Vogliono farti credere Che il gioco sia in italiano Sì, allora, fermi tutti Opzioni, vediamo se si può fare qualcosa Ah, ho sottotitoli codificati Complessi Ah, no, complessi, ho detto complessi Pirla che sono io Allora, volume, un attimo, abbassiamolo un pochino Ok, se no ci assortiamo Video L'umidità va bene Wide screen Grafica avanzata Madonna santa Quanti cavolo di Ma vabbè Lasciamo stare Per mettere a posto la grafica c'è di tutto Tastina mouse Boh, va bene questo Controller No, seriamente Perché il gioco qua è in italiano E i sottotitoli sono in inglese Perché gli italiani sono pigri Vabbè ragazzi Non capiremo un cazzo tutti insieme Dai Tutti insieme Ok Ok Che figata di posto C'è, guardate il texture Che figata Che figata Che figata di texture C'è, se accendere la torcia C'è, entro nella porta Se accende la torcia Esco, si spegne Acceso, spento Acceso, spento Acceso, spento Acceso, spento Ok, basta C'è un cesso Piene di merda Piene di merda Ok, ma cosa che dovrei fare? Oh lol Se te che ho premuto il tasto a sinistro del mouse Zoom C'è una lanterna Posso prenderla? No, c'è la torcia Che cazzo mi ha fatto nella lanterna Guarda, mi stai facendo ricordare un gioco per play 3 che si chiama Flowers Mh? Mai sentito Praticamente devi comandare dei fiori e li devi fare volare nei campi per far piacere gli altri fiori C'è un gioco di merda Esatto Ok Qua Non si sale Beh, andiamocene Sì, ma è bello che sono dentro il gioco ma non è che mi hanno dato un... qualcosa da fare Allora, fermi tutti Opzioni Tastiera mouse Vediamo i comandi allora Avanti, iniettoressa, sinistra, zoom Basta Mi prendete per il culo? Oh, i tasti Muovine avanti No, per gli evocatori Silvio, posso parlare? Stiamo facendo un video di ricordo Va, va, tranquillo, tranquillo C'è, i tasti Avanti, iniettoressa, sinistra UASD Zoom, mouse 1 Punto, fine, basta Sono questi qua i tasti, non puoi interagire? Prendete per il culo Per il culo, sì Ok, andiamo avanti, va Questa casa mi fa cagare il cazzo Andiamocene Perché sono quantato Un uccello Mi devo curare Mi devo curare Mi devo curare Qua c'è la Ma che spazio è? Due evocatori Sì Una cantina Ok, verso l'alto o verso il basso? Scelta molto ardua Verso il basso? E sia Andiamo verso i scogli Ma corre sto zonzo? No, non corre Devo mandare così lenti Va bene, andiamo avanti Una scimitaria è una spada di merda Non salta neanche sto personaggio Ma che cazzo Mi sembra di giocare ad Alphalife 2 Come cavolo si chiama quel gioco? Ho creato tanto per far vedere la grafica Alphalife 2 è Lost Cost se non erro Sì, sì La mondo Possiamo di giocare a quello Ok, siamo sul mare L'effetto dell'acqua è fighissimo Però Però Aspetta, scendo Ma prima Tu repudi il gioco che sia buono o un gioco di merda? Questo? Ah, sì Diciamo che avendo la possibilità tanto di muoversi e non interagire con niente Per ora è di merda Cos'è? Qualcuno ha accesso un ventilatore? Chi ha accesso un ventilatore lo spenga 3 secondi dopo il chico della chiamata Ok ragazzi scudate Piccola interruzione Ok, eccoci Ho dovuto chiccare uno dei due E chi non mi ha tempo che ho chiccato Luca! Esatto Cazzo Io sono ritornato perché non ho fastidio Mai Parli di minchiata È stato il personaggio che parla Di minchiata Di minchiata Parla di minchiata L'Evocatore non è venuto qui per l'esperienza Evocatore Evocatore Suka Di merda Vai Suka Suka Vai così Vai Certo Gli evocatori sono di merda Mi hanno ucciso Minchiata E francamente Posso essere sincero su questo video Se non ci fosse Silvio che sta parlando di evocatori di Skyrim Non saprà che cazzo dire Sto camminando sulla spiaggia Oh facciamo tipo La be watch Ancora che parla La be watch Mi sono incastrato E' il momento di usare un urlo Waa No puoi essere poteri sottone una volta al giorno E vai a cagare Ma che cazzo Che cazzo lo vuoi fare? Seriamente Una sega Cioè No aspetti Fermi tutti Non dimmi che sono arrivato al limite E adesso devo tornare indietro per andare sopra No seriamente ragazzi Non prendetemi per il culo Ok Mi sa che la scena mi ucciderà No se No No raga Aspetta Aspetta Aspettate un attimo perchè qua Comincio ad avere dei piccoli dubbi Allora sto camminando nell'acqua Mi sento molto alla be watch Veramente tanto C'è uno squalo Salviamo il poveretto Non mi ricordo come fa la canzone di be watch però Chi cazzo che mi scrive su skype? Io no Oh merda sto affogando Oddio santo Guardate la La texture Che cazzo Se sono in acqua viene marrone In acqua viene marrone Non so che cazzo di gioco è Oddio santo Che figata quando vado sott'acqua Tipo il personaggio diventa spastico Nel numero delle visioni Si tipo vede pezzi di corpo Ossa Oddio santo Cazzo minchia Pronto? Chi parla? Ehm Si tipo Piero non vedo un cazzo cosi Eh si Non è che sto affogando E torna indietro Ma che Ok Ok Devo veramente tornare indietro E prenderla Verso l'alto Oddio Santissimo Andre è successo un po' bello Che è successo? Nello stesso momento Squiller telefono E suona il cirofono Marie Epico 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 Ok devo tornare indietro Purtroppo Baffanculo Baffanculo Saliamo le scale Madonna che pallo è sto gioco Che cazzo devo fare? Cioè devo vagare Senza malità Per il mondo? No aspettate un attimo Poi questo gioco viene anche venduto 7 euro su steam Se non erro Oh che bello il mare Ma tipo Alza il circolo della sedia del computer Andare veramente al mare con gli amici? No eh Tipo cos'è il gioco più nerd del mondo questo? Forever alone Non ho amici Siccome ricompro il gioco Che bello il mare Andiamo a farci una nuotata Ma vaffanculo Wow In conclusione il gioco sarà di merda Non avendo possibilità di fare niente A parte vagare Ancora che parla Il punto è che parla da solo sto tizio Quindi Shen il gioco sarà di merda Cioè sale sulla montagna e dice La montagna e tenenene La montagna Tipo di storia in auto Oh This is a car You don't say No Allora c'è una nonna Eh Ciuppa Andiamo un attimo dalla nonna Shining King Spero che Stai zitto testa di cazzo Zitto Taci Personaggio del merda Taci Allora Tu sei una testa di cazzo Lo sai vero? Sei una testa di cazzo Io no Non tu Comunque Shining King Che ti venga un'ulcera perforante Da quando merito di scaricare questo gioco Odio profondo Ha perso la mia stima Tutta la stima Tutta la stima Ok Io sto continuando che me ne è nell'erbetta Non può fumarsi un po' di canne questo personaggio Almeno Recupera Da notare che ancora Luca sta scrivendo Vuole essere sull'inchiamata Se vuoi aggiungilo Non dovrebbe tornare nel desktop Ok però gli dico di non fare bordo Esatto Oddio santo Dove cazzo sto andando Per curiosità soltanto Andiamo di qua Posso tornare indietro Ok l'ho aggiunto Ora bisogna vedere se accetta Ok Oddio 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 Perché mi avevate rimosso? Era partito un ventilatore Un casino assurdo stai facendo Tre volte mi hanno detto C'è un ventilatore acceso? Ventilatore, ventilatore Non è risposto Ho capito Questo punto lo dovrò superare Senza uccidere nemici Io puro sapere quanto tempo ci metterò a oppare questo cazzo di video poi E tu non lo fare tanto lungo Eh, io sto andando avanti Sempre più avanti Lungo la strada Oddio Continua a sanguinare E intanto il personaggio continua a sparare minchiate Chiudi la porta, chiudi la porta, chiudi la porta Ora se mi aprite la porta vi uscite i coglioni Tutto c'è chi di rubare robe Vai andiamo a rubare i libri Purtroppo è solo per quelli che sono preso a seguire Ok, sto raggiungendo delle rocce abbastanza strane Cos'è sto un Angel? No, 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 no Ecco ragazzi Ma soltanto tu scena, usi no No, è un termine nerd che ho usato da tutti Che cazzo è sta roba? Cos'è una condizione chimica? Cosa? La Bibble C'è una Bibbia Prendila No No Saburo faccia da culo se ne può anche andare a cagare Ciao Sabu Che bello, meno male che non stanno aprendo la porta i tizi stronzi, guarda Sotto al Sabu Faccio anch'io ogni tanto Vai No, per me Saburo faccio da culo lo chiamo da quando non ha sposato Lidia Era pronta per sposarsi Ma perché? Tu avresti Saburo negli amici di Skype? Dettagli Anche su Steam Wow Dettagli Viva il comendone, basta Io ti fu il comendone perché è veneziano Ah, comenda veneziano, no E beh, ovvio E anche lui è almeno un youtuber nordico, quindi Nordico Nordico, dai Ok, adesso Non è terrone Insomma, anche io sono mezzo terrone, ma detta Ho finito il primo livello, non ci posso credere Ho finito il primo livello, basta Domination, Domination C'è qua proprio Coppitalia, tutto Scudetto, tutto, me lo porto a casa io Ma che senso avrebbe il gioco? Nessuno Ok ragazzi, qua interrompiamo la prima parte Vi abbiamo finito il primo livello, quindi ci vediamo nel prossimo Fate un saluto mentre il personaggio continua a sparare, minziate Ciao Ciao Ok, al prossimo Bye bye Un saluto alla Franks Yahoo Ok, basta Basta